Il centenario delle tre giornate rosse di Viareggio che diedero vita alla breve esperienza della Repubblica Viareggina nel 1920 avrebbe meritato di essere celebrato in tutt'altro modo. Purtroppo l'emergenza sanitaria del Covid-19 ha impedito iniziative pubbliche. Tuttavia Repubblica Viareggina per i beni comuni ha deciso di dare vita ad un evento sulle proprie pagine social per tenere vivo l'insegnamento di quella rivolta di popolo. Siamo qui con Luna Caddeo, portavoce di Repubblica Viareggina, alla quale chiediamo come mai per la vostra organizzazione è così importante questa data. Dunque, per noi di Repubblica Viareggina che ci rifacciamo agli ideali di giustizia sociale, ai valori della resistenza o alla lotta contro i soprusi dei forti contro i deboli, dei padroni contro gli sfruttati. Sicuramente quelle giornate rappresentano un punto importante della nostra città ed è l'esempio di un popolo che resiste, di un popolo che si ribella. E appunto, tutt'oggi cerchiamo di continuare e di portare avanti lo stesso messaggio, che è un messaggio di lotta popolare per appunto rivendicare e riappropriarci della nostra libertà. Possiamo considerare le giornate rosse come un esempio di auto-organizzazione dal basso. E appunto, come Repubblica Viareggina, ci teniamo e sono giornate molto importanti e per questo, proprio perché abbiamo a cuore la memoria della nostra città, non appena ci sarà data la possibilità, abbiamo in programma di organizzare un evento pubblico che appunto ricorderà le giornate rosse. Un ruolo molto importante nelle tre giornate rosse lo ebbero le donne. Ce ne vuoi parlare anche alla luce del fatto che voi vi definite organizzazione femminista? Ci sono due momenti diversi tra loro, ma che hanno lo stesso comune denominatore, ovvero le donne. Il primo è sicuramente quando Virgilia D'Andrea, poetessa e sindacalista anarchica, facente parte della segreteria milanese dell'Unione Sindacale Italiana, venne appositamente da Milano per tenere un comizio pubblico al Politeama, per organizzare quello che fu poi il primo maggio. Era la prima volta che quel mondo di pescatori, di marinai, di operai avrebbe assistito a un comizio ottenuto da una donna. E nonostante tra gli uomini dilagasse lo scetticismo per quella scelta, le loro mogli, le loro sorelle, le loro madri, per la prima volta vennero incuriosite e inaspettatamente parteciparono attivamente al comizio che è tenuto da una donna che sicuramente era più sofisticata, se vogliamo definirla così, ma era pur sempre una donna. Il comizio fu una rivelazione. Virgilia parlava la loro lingua, sapeva come incitare il suo auditorio, sapeva quali punti toccare. E la sala iniziò a inneggiare a lei, a sottolineare le sue affermazioni con degli applausi scroscianti. Gridava rivoluzione, giustizia sociale, ribellione, basta con i soprusi, basta con le violenze del regno sabaudo. Le donne in quel momento si sentirono lentamente più forti e all'altezza dei loro uomini e forse anche di più. Diciamo che quella che è invece la seconda parte che caratterizza queste giornate dal punto di vista femminile è appunto le donne che successivamente alla morte di Augusto Morganti iniziarono la rivolta o meglio fecero iniziare la rivolta e scoccano la scintilla della rivoluzione. Urlano contro i carabinieri, urlano contro un altro di loro che viene ammazzato, urlano alla violenza delle forze dell'ordine che si approfittano del popolo, che reagiscono troppo violentemente e iniziano a chiedere giustizia. Si forma un corteo improvvisato di donne, uomini, giovani, anziani, indistintamente e in quel momento lì il popolo che era esausto e avvezzo alla fatica e alla sofferenza ha deciso di dire basta. Quindi da quel momento in poi nasce così la Repubblica Via Regina. Tra i rivoltosi organizzati che poi vennero processati ci furono anche le tre donne che dettero via alla rivolta e appunto ricordiamo Rosa Bertelli che fu soprannominata da subito la bozzana ed era quella che imbracciava il fucile. Poi ricordiamo Margherita Pivò che fu accusata di incitamento alla folla dei dimostranti e anche all'assalto della caserma e all'incendio della stessa. E poi ricordiamo Marianna Raffaelli soprannominata Beghera. Lei fu accusata di aver coadiuvato un gruppo di facinorosi durante appunto queste tre giornate di rivolta. E diciamo che è anche a loro che noi donne di Repubblica Via Regina guardiamo con ammirazione soprattutto per essere riuscite ad emergere e a dimostrarsi importanti e anche essenziali se vogliamo in un contesto di agitazione popolare che fino a quel momento lì era sempre stato guidato da soli uomini.